Fate passare il treno R sulla linea espressa all'altezza della 34esima strada. Apri la porta, fallo subito, t'ammazzo. Scucci fuori! Controllo chiama Pelham 123. Perché ti sei fermato? Hai segnale verde. Centrale di controllo, mi sentite? Chi sei? Sono quello che farà sputare un po' di soldi a questa città. Allora, qual è il prezzo degli ostaggi di New York stamattina? Che dici, un milione a cranio è troppo alto? Io non sono autorizzato a negoziare. Secondo me tu sei perfetto. Fra 59 minuti comincio a uccidere i passeggeri. Che fate, pagate? Non ci vuole mica tanto. Devono solo fare quello che dico io. Chiama il sindaco, subito. Qualcuno ha sequestrato il Pelham 123. Non ti pare che sia destino tra te e me? Io sono uno qualunque che sta dall'altra parte del microfono. E tu mi piaci davvero. Forse sarai l'ultimo con cui faccio amicizie. Come farà a portare i soldi qui? Stanno chiudendo tutti gli incroci da qui a Gruppi. I soldi sono in arrivo. È stato un incidente. Ora deve morire qualcun altro. Quei poliziotti saranno in fondo alla galleria. Fagli scaricare le armi su di me. Voglio farti una proposta. Prendo te al posto di tutti questi passeggeri. Vogliono che porti i soldi in fondo alla galleria. Fa quello che devi fare, ma ci serve il latte. Perciò tornando a casa, fai il favore. Comprane un litro. Posso comprarne mezzo litro. Va bene mezzo litro? Tu sei uguale a me, Gerber. Hai cinque secondi. Ok. Cinque. Quattro. Tre. Quattro! Tu sei uguale a mezz'era. Ho giusto! Quattro! Doi! Quattro! Tero! Quattro! Quattro! Grazie.